Ci siamo! Partiti i cavalli del premio Ribot Memorial Loreto Luciani 2019 Partenza buona per tutti ma il più veloce è proprio l'ospite della Repubblica Ceca Kronk Prenz che poi si adegua al volere di Villa Bate che prende la leadership della competizione trascinandosi in seconda la giuba verde e blu che è quella di Mission Boy la cui schiena è presa da pensiero d'amore l'ospite Ceca Kronk Prenz che si sistema in terza in seconda corsia poi l'altra giuba verde con cap bianca è quella di Fulminix che lascia in code il favorito out of time Villa Bate sta imbastendo un ritmo abbastanza regolare per la categoria in vantaggio con circa tre lunghezze di margine nei confronti di Mission Boy terza posizione per Kronk Prenz in quarta all'interno c'è la giuba della FV che è quella di pensiero d'amore che lascia in penultima posizione Fulminix è in ultima posizione il favorito out of time siamo in dirittura d'arrivo 750 metri da percorrere con Villa Bate che ha dato la prima accelerazione Mission Boy che non lo perde di vista Kronk Prenz che si presenta subito bene in terza corsia pensiero d'amore che invece va un po' più all'interno Fulminix che ha preso la scia dell'ospite Ceca invece out of time ha cominciato la sua progressione dall'esterno ma nel frattempo torniamo in cima perché Villa Bate è in vantaggio quando mancano 400 metri dal traguardo ed è attaccato all'esterno da Mission Boy poi out of time che si presenta molto bene all'esterno di tutti adesso deve produrre lo scatto con ancora Villa Bate in vantaggio lo scatto di out of time che ha raggiunto in due tempi di galoppo Villa Bate out of time in tre tempi di galoppo si è liberato di tutti gli avversari ed è venuto a dominare il premio Ribot nei confronti dello stesso Villa Bate e per il terzo Fulminix Grazie